A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Oggi ragazzi andremo a continuare questo maledetto e odioso Cell Game dal preciso punto in cui l'abbiamo interrotto nello scorso episodio, ovvero subito dopo il primo combattimento di Gohan Super Saiyan Full Power contro Cell Perfetto. Quindi ragazzi non vi nascondo che ho tanto hype per questo episodio, sicuramente oggi ne vedremo delle belle, vedremo appunto il momento epico ed eroico e più importante di C-16, vedremo appunto finalmente la mitica e fighissima trasformazione di Gohan in Super Saiyan di secondo livello, sinceramente non vedo l'ora di vedere tutta sta roba qua, ci sarà tutta in un episodio solo, quindi sarà tanta roba da digerire, momenti belli, momenti brutti, un sacco di roba e a questo punto non ci resta che seguire il tutto e goderci tutti questi momenti. Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi semplicemente siamo andati a continuare la missione storia del Cell Game, in cui praticamente Goku si è ritirato e ha scelto come secondo avversario per Cell il nostro caro Gohan, quindi Gohan si è fatto avanti e anche se tutti gli altri guerrieri Z non erano convinti che ce la potesse fare, Gohan è andato ad affrontare Cell e quindi abbiamo fatto la mitica battaglia tra Gohan Super Saiyan Full Power e Cell Perfetto. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! Detto questo, adesso ragazzi possiamo finalmente cominciare, Continueremo ovviamente dal momento subito dopo il combattimento tra Gohan Super Saiyan Full Power e Cell Perfetto, quindi andiamo! Ed eccoci qua ragazzi, Gohan Super Saiyan Full Power contro Cell Perfetto e Cell dice Che sorpresa, non pensavo fossi così resistente! Ah, sei rimasto stupito Cell! Bene, bene! Ok, Gohan si tranquillizza, vediamo! Per favore, basta, non voglio affrontarti! Cioè ragazzi, manco lo vuole battere Gohan, è talmente buono che manco lo vuole distruggere! Non voglio uccidere nessuno, neppure uno spietato come te, ecco! Questa praticamente è la prova ragazzi, di quanto è buono Gohan! Ah ah ah, tu uccidere me, questa sì che bella! Cell, stati calmo che se Gohan si incazza per te è finita, fidati! Mi hanno detto che sin da piccolo possiede una forza enorme che si manifesta solo quando mi arrabbio, E altro che, ragazzi, se lo sappiamo, contro Radish, contro Freezer... Mamma mia, ne ha combinate Gohan! Forse è per questo che mio padre pensa che possa sconfiggerti, forse sta puntando su quella forza! Esatto ragazzi, è proprio così, Gohan lo ha capito! Che c'è? Credi di spaventarmi con una storiella del genere? Non credo che Cell si spaventi, raga! Mi dispiace, ma adesso voglio assolutamente farti arrabbiare! Cavolo ragazzi, è arrivata la curiosità a Cell, vuole scoprire quanto è forte, merda! Ecco raga, lo sta stritolando e Goku non interviene, maledetto! Oddio raga, povero Gohan! Fa male, vero? E questo non ti fa arrabbiare? Non vorrei mica morire così, vero? Di certo no, ragazzi, Gohan non vuole morire così! Goku, vado a dare una mano a Gohan, non cercare di fermarmi! Attenzione raga! No Junior, dobbiamo solo aspettare che si arrabbi abbastanza, ok? Goku punta tutto su quello! Se vogliamo battere Cell ci serve tutta la potenza di Gohan, e la rabbia è l'unica chiave che può liberarla! Su questo ha ragione, no? Ti sbagli Goku, Gohan non è come te, a lui non piace combattere! Junior lo conosce meglio di Goku! A Gohan, raga, una cosa incredibile! Hai idea di cosa sta provando adesso? Bravo Junior, fallo ragionare a Goku che non sta più ragionando! Non è in collera, si chiede solo perché suo padre non lo aiuti nonostante sia in pericolo di vita! Quanto ha ragione Junior, raga, ha capito tutto! Sarà anche il più forte fra tutti noi, ma è comunque un bambino! Esatto, raga! Mamma mia, che disastro, che disastro! Goku è rimasto senza parole! Krilin, dammi un senzu! Attenzione, raga! Ok, Krilin, daglielo sto senzu, facciamo presto, vediamo un po' che cosa accade! Povero Gohan, raga, mi dispiace tantissimo! Ah, l'ho gettato per terra adesso! Che ostinato! È resistente Gohan, raga, assolutamente! A quanto pare il dolore non è sufficiente per farti infuriare! Aia, raga, prevedo brutte cose! Attenzione! Sentiamo cosa ne pensano i tuoi amici! Ecco, voglio andare a fare del male ai guerrieri Zeta, me lo ricordo! Che vuoi fare? Oddio! Tutto il necessario per farti arrabbiare e tirare fuori quella forza nascosta! Perché gliel'hai detto, Gohan? Mannaggia a te! Ecco, ragazzi, il momento eroico di C16! Vai, C16! Stritolalo! Perdonatemi se vi coinvolgo! È certo, raga! Mi autodistruggerò con Cell! Vai! Vai, C16! Magari funzionasse, raga! Neanche tu sarai in grado di fermare un'esplosione a questa distanza! Beh, su questo è vero, raga, se funzionasse... Cell spaventatissimo! Vai, C16! Provaci almeno! Raga, il momento eroico di C16 mi piace tantissimo! Cosa? Non ha funzionato, raga! Perché? Perché non sono esploso? Lo sappiamo ovviamente il motivo! Perché non puoi farlo, numero 16? Dice Krillin! Madonna, raga, tutto uguale all'anime! Mentre ti riparavano alla capsule corporation, il Dr. Briefs ha trovato un esplosivo terribilmente potente nel tuo corpo! Però era potentissimo, raga, eh! Diciamolo! Mamma mia, raga, che situazione! E per sicurezza lo ha eliminato! Potevi dirlo prima, Krillin? Non in questo momento! Cavolo! Merda, raga! Che situazione bruttissima! Questa parte me la ricordo, ovviamente! È la più brutta scena che io abbia mai visto in Dragon Ball, raga! Meno male che qui non l'hanno fatta vedere troppo brutta! Insomma, ecco! Povero C16, raga! Eh, eh, eh! Mi dispiace il numero 16! Cell, maledetto a te! Ti distruggerò! Ti distruggerò con Gohan! E lancia la testa! Verso Mr. Satan, tra l'altro, e company! Ora tocca a voi! Maledetto, raga! Ma non è ancora finita, ovviamente! Non è ancora finita! Oh, cavolo, raga! I mini Cell! Cosa? Cosa sono quelli? Tutti stupiti, raga, ovviamente! Che, che, che! Questo è il verso che fanno! Andate, Cell Junior! Fate a pezzi Goku e i suoi amici! Mi chiedevo quando sarebbero usciti, raga! Ed eccoli qua, sti mostri! Oh, mio Dio, raga! Ok, state attenti! Sono fortissimi, dice Goku! E certo, raga, hanno, appunto, percepito l'aura e hanno visto che comunque sono forti! Almeno forti quanto un Super Saiyan o anche più forti, volendo! Ok, vediamo un po', ragazzi, che cosa accade adesso! Ah, ok, siamo con Goku! Perfetto! Sta attento, o qui finisce male! Piccoli demoni, grandi problemi, affronta i Cell Junior! Quindi, raga, almeno c'è il combattimento contro questi maledetti Cell Junior! Ho notato, ragazzi, che si è creata una squadra! Quindi abbiamo Goku, Trunks e Vegeta! E poi ci sono, appunto, Gohan! Tenzing, Yamco, Krilin e, appunto, Junior! E, ragazzi, purtroppo, C16 non c'è più! Maledetto Cell, ragazzi! Gliela faremo pagare, promesso! Perché si è comportato malissimo proprio con C16! Poteva farlo un po' con tutti, no? Proprio con lui se l'è presa! Comunque, ragazzi, parliamo un po' con i personaggi! Parla! Ma come faccio a liberare il mio potere? Dice Gohan! Manco lui lo sa come fare! Ok! Non dice altro, raga! Andiamo da Tenzing e gli altri! Vediamo che cosa ne pensano di questa situazione! Non mi arrenderò senza combattere! Bravo Tenzing! Così si fa, insomma! Maledizione! Allenarsi non è servito a niente! Infatti, raga, loro non sono al livello dei mini Cell! Assolutamente no! Ce lo sappiamo! Vediamo un po' cosa dice Krilin! Le cose si mettono male! Altro che, ragazzi! Altro che! Vediamo Junior che cosa ne pensa di questa situazione! Credo che tu l'abbia sottovalutato, Goku! E infatti, raga, infatti! Perché adesso ha tirato fuori questi cavolo di Cell Junior che nessuno si aspettava, insomma! Quindi, raga, io direi di andare subitissimo da Cell e i suoi quattro Cell Junior che in realtà dovrebbero essere sette! Perché non li ha messi tutti davanti? Dove sono gli altri? Vabbè! Ragazzi, andiamo subitissimo a combattere! Ho la va o la spacca, dice Goku, assolutamente! Ok, ora sono sette, raga, fortunatamente! Che che che? Fanno tutti quanti, raga, il verso! Alcuni si sono alzati in volo e sono andati a combattere con gli altri guerrieri e tre rimangono da sconfiggere qui, ragazzi! Quindi, perfetto! Vai! Oh, Vegeta, ragazzi! Si incazza! Non diventa Super Vegeta! E dice, non dovevi farmi arrabbiare! Mamma mia, ragazzi! Quanto è figo Vegeta! Avanti! Anche Trunks, ragazzi! Mamma mia, finalmente lo vediamo come si deve! Anche se non è né Super Trunks e né Ultra Trunks! Non ci hanno fatto vedere su Trunks quelle trasformazioni, però questa qua, questa forma di Super Saiyan con la tuta e sti capelli, mi piace un sacco! Avanti! Oh, ghia! Questi, raga, si divertono! I Mini Cell sono davvero assurdi e fastidiosi, tra l'altro! Li odio anche a loro, ovviamente! Avanti! Vediamo un po'! Si parte, ragazzi! Si parte a fare la battaglia! Mamma mia! Che bello, raga! Adesso faremo il culo a questi cavolo di Cell Junior, o Mini Cell, come vogliamo chiamarli! Raga, facciamo Super Kamehameha! Vediamo un po' se riusciamo a beccarli! Sì che li becchiamo! Stiamo attenti, raga! Bam! Ovviamente gli altri stanno già combattendo a tutta potenza, raga! Mamma mia! Oddio, il Kienzan, raga! Stiamo attenti al Kienzan! Facciamo Super Cannone Galic di Vegeta, che lo becca! Facciamo attacco bruciante di Trunks! Madonna, ragazzi! Che devasto! Bellissimo, bellissimo! Andiamo con un po' di combo! Leviamoci! Oh, cavolo! Questa non me l'aspettavo, raga! Non me l'aspettavo! Attenzione! Levati, Goku! Levati! Oddio! Super Kamehameha! Adesso! Madonna, ragazzi! Li dobbiamo distruggere! Facciamo, appunto, Super Cannone Galic di Vegeta! Madonna, raga! È un casino! È un delirio! Ricarichiamoci! Ok! Bam! Beccato, raga! Adesso Super Kamehameha! Almeno che li iniziamo a distruggere, così stiamo un po' più tranquilli! Ok! Vai! Mamma mia, ragazzi! Sta venendo una cosa assurda! Attacco bruciante! Vai! Super Cannone Galic di Vegeta! Madonna, raga! Li stiamo devastando tutti quanti! Sono troppo contento! No! Ok! Adesso, raga! Volevo buttarmi il Kienzan, quel maledetto! Allora, facciamo Kamehameha guidata! Dai, ragazzi! Concludiamo così! Perfetto! Almeno uno lo abbiamo già distrutto! Mi vado a ricaricare! Ok! Già sapevo sarebbe venuto! Da vicino, ragazzi! Una bella Super Kamehameha! Attenzione! Ok! Mi levo! Perfetto! Ragazzi! Vado a ricaricarmi! Facciamo Super Cannone Galic di Vegeta! Così almeno li becca! Vado io di Super Kamehameha! No! Merda, raga! Da troppo, troppo fastidio quando appunto ci accecano! Benissimo! Bravo Goku! Mi piace! Madonna, ragazzi! Vegeta bellissimo! Facciamo la combo, ragazzi! Con Vegeta, Super Saiyan e anche Trunks! E facciamola sta combo! Vediamo un po', ragazzi! Che bella! Che bella! Ottimo! Ottimo! Bravi, ragazzi! Madonna, raga! Guardate che roba! Tutti e tre gli attacchi! Porca miseria, raga! Bellissimo! Adesso ci hanno accecato, però, raga, è stato bellissimo! Vi giuro! Prendiamo qualche integratore, così ci risale un po' la vita! Super Kamehameha da vicino, ragazzi! E ci acceca! Oh, ma soffissati, ragazzi, questi qua! Ci accecano ogni cavolo di volta! Ok, facciamo gli attacchi di Vegeta e Trunks! Possibilmente insieme! Ok, raga! Dai, dai, che stiamo andando benissimo! Ok, facciamo Sfera Genkidama X, raga! Anche se Goku non ha mai usato al Cell Game sta mossa, però lo abbiamo distrutto al Minisell! Troppo, troppo soddisfacente, raga! Attenzione, attenzione! Vediamo! Andiamo di attacco di Vegeta! Oh, perfetto! L'abbiamo beccato un po', sì! Sfera Genkidama X, raga! E usiamola! Vai! Lanciala! Perfetto! Vediamo un po', raga! Non è detto che lo becchiamo, perché si muove! Anzi, si muovono! Leviamoci adesso! Benissimo! Super! Kamehameha! Peccato, ragazzi! Alla grande! Porca miseria! Ok! Vai! Ok, tanto sto parando! Vai! Trunks! Ficchissimo, ragazzi! Ci dà un sacco, un sacco di supporto! Avete visto? Troppo bello, troppo bello! Dai, prendiamo qualche altro integratore! Raga, facciamo Sfera Genkidama X! Forza! Beccalo! Sì, ragazzi! Lo abbiamo beccato! Attenzione! Attenzione, attenzione! Vediamo un po', vediamo un po'! Voglio beccarlo con la Sfera Genkidama X, raga, e concludere! Beccalo! Dai! Sì, ragazzi! Distrutto! Fine! Mamma mia! Oh, esperienza ottenuta! Un milione e sessantatremila, grado S, aumento di livello! Ok, Goku livello 51, Vegeta livello 48, Trunks livello 45! Mamma mia, ragazzi! Oh, bene! Tre Super Saiyan contro tre Cell Junior! C'è anche Junior proprio qui! Krillin già steso a terra! Anche Yamco, Tensing, insomma! Mamma mia, raga! Mi dispiace, non pensavo che sarebbe finita così! Mannaggia a te, Goku, quante ne combini! Mannaggia! Basta, dice Gohan, raga, siamo vicini, eh! Smettila, ti prego! Ma tanto Cell non ti ascolta, Gohan, fidati di me, che è un cattivo nato! Ok, Cell Junior, basta con i giochi, se volete ammazzarli, fate pure! Sta cercando a tutti i costi di farlo scatenare! Verranno uccisi, verranno uccisi tutti, pensa Gohan! E allora incazzati! Voglio mostrare la mia vera forza, se è veramente nascosta dentro di me! Caro Gohan, devi credere molto di più in te stesso! Ma non so come arrabbiarmi per tirarla fuori! Oddio, raga! Oddio, ci siamo! Sta per arrivare un momento, già lo sento! Cosa? Dice il presentatore! Che succede? Dice Mr. Satan! Non sta capendo nulla! Qui si mette male! Forse dovremmo allontanarci! E forse fate meglio! Però c'è una cosa che Mr. Satan deve fare ancora, che mi ricordo molto bene! C16 dice, aspettate! Raga, non è ancora morto, eh? Dai C16! Prima di andarvene, portatemi da quel bambino! Ragazzi, il momento più bello di C16! Mamma mia! Mamma mia! Le sue parole trasformeranno tutto! Vi prego, fatelo per la terra! Mamma mia, raga! Assurdo! Stai scherzando? Vicino a quel ragazzino c'è Cell! Mr. Satan cacone, raga! Cioè, ha paura! Non vuoi essere utile almeno un po' anche tu? Dice C16! E infatti! Dopotutto sei il campione mondiale di arti marziali! Esatto, Mr. Satan! Anche tu credi un po' in te stesso! Mr. Satan è il campione dell'umanità! Non dei mostri come voi! Ma C16 non è un mostro! Magari gli altri sono dei mostri! I guerrieri Z e Cell sono dei mostri! Di potenza! Ok, Mr. Satan ci sta pensando, raga! Va bene, lo farò! Raga, anche questo è un momento epico per Mr. Satan che aiuta C16! Mr. Satan, lasci stare! Vuole forse morire? Sta zitto! Madonna, raga! Non so chi siano quelli là, ma stanno combattendo a costo della vita! Un campione come me non può scappare con la coda tra le gambe! Esatto, parole sante, raga! Mamma mia, anche io avrei fatto la stessa cosa! Basta, basta che ti porti vicino a lui, giusto? Sì, ti ringrazio! Mamma mia, raga! C16 che parla in modo pacato e tranquillo, tra l'altro! Ecco, mi ricordo questa esatta scena nell'anime, raga! L'hanno realizzato uguale! Però, ho davvero paura! Ancora! Ancora, mister! Dai! Ti prego! Gettami verso di lui quando sarai abbastanza vicino! Ok, ragazzi! Siamo agli sgoccioli! Eh? Sul serio? Oddio! Ok, nasconditi mister satan, attenzione! Bene, ecco! Vai! Lancialo con tutta la potenza, così arriva davanti a Gohan! Ok, proprio al centro, raga! Gohan se ne è accorto subito! Numero 16! Ok! Attenzione, raga! Attenzione! Ok, ragazzi! Risultati storia! Goku contro Cell, grado S, Gohan contro Cell, grado S, Goku e gli altri contro i tre Cell Junior, grado S, quindi totale S, siamo andati davvero benissimo avanti! Vediamo un po', ragazzi! Questo è il momento epico più importante del Cell Game, a mio parere! Ricompensa e storia, 199.563 punti esperienza, un ultra pan geniale e un testo supremo di arti marziali! Perfetto! Avanti! Vediamo un po', ragazzi! Adesso massima attenzione a questa scena, perché adesso viene il bello e anche un po' il brutto, no? Sappiamo come va il tutto, no? Oddio, raga, che grafica stupenda! C16 dice, Gohan, questo è il momento del discorso epico, non è sbagliato combattere per la giustizia! Esatto, raga, pienamente d'accordo! Abbandonati alla tua collera, lasciati pervadere! Cell lo ha notato, ti capisco, ma non hai più bisogno di trattenerti! Ok, raga! La natura e gli animali, chiamavo tanto! Mamma mia, raga, i brividi! Proteggili al posto mio! Gohan già sta piangendo, raga, guardate che roba! Conto su di te! Aia, raga, aia! Madonna, sta scena, quanto la odio! Hai parlato fin troppo! Maledetto Cell! Oddio, raga, la scheda che avevamo visto! Stupido Rottame, non ti permettere, Cell! Rottame sarai tu, eh! Quanto ti odio, mamma mia, ragazzi! Questo è il momento in cui C16 si spegne per sempre, purtroppo! E Gohan lascia andare la sua collera! Vai, Gohan, scatenati! Ecco, ragazzi, come nell'anime! Tutto rosso dietro! La linea rossa che passa! Oddio, raga, adesso... Madonna, sì! Vai, Gohan, scatenati! Basta trattenersi, basta! Fai vedere la tua potenza, la massima potenza! Dai, ragazzi, il Super Saiyan di secondo livello! Gohan! Mamma mia, raga, tutti soddisfatti! Anche Goku! Eccolo, il Super Saiyan di secondo livello, ragazzi, con il mitico ciuffo! Si è trasformato! Guardate la faccia, raga, di Cell, stupita! Non si aspettava nulla del genere! I fulmini fighissimi, raga, i capelli tutti sparati! Attenzione! Gohan e la Kamehameha, padre e figlio! Ragazzi, ci siamo, eh! Siamo arrivati praticamente agli sgoccioli! Mamma mia! Dai, Gohan, vendi che C16! Non ti perdonerò mai per ciò che hai fatto! Ovviamente è riferito a C16, raga! A ciò che ha fatto a C16! Ma guardate quanto è figo, raga! La grafica è stupenda! E adesso elimina i Cell Junior, guardate, raga! Con una semplicità mai vista prima! Vai, Gohan, elimina queste mezze cartucce dei Cell Junior! Che non sono assolutamente al tuo livello, vai! Lo sguardo incazzatissimo, raga! Di un Saiyan prepotente! Oddio! Questa è la vera forza di Gohan! Raga, sto godendo in questo momento, ve lo dico! C'è Gohan che sta eliminando tutte queste creature! Tutte le eliminate! Non starai mica pensando di potermi sconfiggere sul serio, vero? E invece sì, lo farà! Non è un pensiero! Certo che posso! Vai, Gohan! Mamma mia, ragazzi! Ci siamo! Siamo con Gohan di secondo livello! La trasformazione Super Saiyan 2 di Gohan è ora disponibile! Questo significa che l'abbiamo appena sbloccata e la potremo utilizzare anche, credo, nelle battaglie libere d'ora in poi! Quindi, fantastico! Avanti! Ok ragazzi, vediamo un po' Gohan infrange i suoi limiti Raggiungi Cell! Perfetto ragazzi, siamo praticamente alla fine! Ragazzi, io direi che ci possiamo tranquillamente fermare qua per oggi Abbiamo visto e fatto davvero tantissima roba Quel maledetto di Cell ha cercato in tutti i modi di far arrabbiare Gohan per fargli scatenare tutta la sua potenza C16 ha cercato di autodistruggersi per eliminare la minaccia di Cell ma purtroppo, non essendoci più la bomba all'interno non è riuscito a farlo e quindi è stato distrutto Dopodiché, ragazzi, Cell ha fatto uscire dalla sua coda i sette Cell Junior Goku, Trunks e Vegeta hanno combattuto contro tre Cell Junior e quindi abbiamo fatto quella fantastica battaglia con tre personaggi mentre Tensing, Yamco, Krillin e Junior hanno combattuto contro gli altri quattro restanti Cell Junior Comunque, li abbiamo sconfitti, la battaglia è stata davvero entusiasmante Il nostro caro Mr. Satan ha avuto un ruolo fondamentale nel portare la testa di C16 sul campo di battaglia tra Gohan e Cell e ragazzi, lì C16 ha fatto il suo discorso per appunto far scatenare Gohan perché combattere per il bene e per la giustizia non è una cosa brutta quindi gli ha fatto un bel discorsone che ho apprezzato tantissimo e ragazzi, Cell purtroppo ha distrutto la testa Gohan finalmente si è scatenato ed è diventato, come vediamo adesso, un Super Saiyan di secondo livello davvero fighissimo con questi capelli sparati e con questo ciuffo davvero formidabile quindi ragazzi, ovviamente nel prossimo episodio partiremo da questo preciso punto e andremo ad affrontare Cell perfetto con il nostro caro Gohan Super Saiyan di secondo livello davvero fighissimo non vedo l'ora di arrivare a fare la battaglia perché ragazzi, voglio davvero scatenarmi e andare a distruggere questo maledetto di Cell mi raccomando, fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio fatemi sapere se siete dispiaciuti per ciò che Cell ha fatto a C16 lo ha distrutto praticamente due volte ragazzi, odio profondamente queste scene riguardo C16 li ho sempre odiate da quando ho visto la prima volta l'anime fatemi sapere che cosa ne pensate della battaglia epica di Goku Trunks e Vegeta contro i 3 Cell Junior è stata davvero pazzesca si muovevano sempre ed erano anche difficili da beccare ma ragazzi, mamma mia soprattutto la combo che abbiamo fatto la combo Z è stata davvero pazzesca e fatemi sapere infine se vi è piaciuta la mitica e fighissima scena di C16 che ha fatto il discorso di incoraggiamento a Gohan e una volta che Cell ha distrutto la testa Gohan si è trasformato in Super Saiyan di secondo livello scatenando tutta la sua potenza secondo me ragazzi, quella è la migliore scena di tutta questa saga poi fatemi sapere la vostra quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito se volete ragazzi lasciate un like condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò e ci vediamo